È stata una parte aperta, io direi assolutamente equilibrata. Sono piuttosto contento della prestazione fornita dai miei. Purtroppo nel calcio chi sbaglia paga. Noi nelle occasioni dei gol abbiamo fatto degli errori da sottolineatura rossa e quindi siamo stati puniti. Per il resto l'atteggiamento è stato buono. Il capo per 3-1 a Mantua deve però essere solo un brutto ricordo perché il Sant'Arcangelo nel match di domani nel turno infrasettimanale ospiterà l'assamble indettese al Mazzola, avversario ostico ma non proibitivo per ritornare a fare punti in classifica. Non saranno del match gli squalificati Adorni e Oneto. Out Danza toccherà al giovane Paramatti partire titolare davanti a Nardi. Come qualsiasi squadra Lotti per la salvezza non possiamo permetterci di giocare tranquilli. La nostra forza fino ad adesso è stata quella di combattere ogni partita come se fosse l'ultima e che ogni partita ci deve dare quei tre punti necessari per salvarci.